No, Elena! No! Non ci voglio andare a la verbania a visitarvi! No! Dai! Smettete di urlare in questo modo! Ok! Bene! Ora andiamo a visitare la verbania e la città! Papà! Non voglio stare con mio padre! Non esagerare! Ok! Muovetevi! Bene! Siamo in ver... siamo in ver... verbania! Papà! Andiamo al concetto di Justin Bieber? Certo! Vendiamo! D'accordo! 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 Allora, vi siete divertiti? Sì, ci siamo divertiti molto. Ah, per l'amore del cielo. Ah, bravi, andiamo. Sì. 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 Sì.